Grande Fratello. Il bellissimo annuncio di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I fan emozionati. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La diciassettesima edizione del Grande Fratello. Conclusasi lo scorso 25 marzo con la vittoria di Perla Vatiero, continua a far parlare di sé. Soprattutto per le vicende amorose nate tra le mura della casa. Tra i protagonisti più chiacchierati vi sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La cui storia ha catturato l'attenzione del pubblico e degli esperti di gossip. Nonostante il reality sia terminato, le voci su una presunta relazione segreta tra l'attrice e il bidello non si placano. Inizialmente, i due sembravano avvicinarsi, come dimostrato dal famoso bacio nella vasca. Ma successivamente Beatrice ha preso le distanze, ponendo fine al flirt. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni lanciate da Dejanira Marzano, esperta di gossip. Il flirt tra i due potrebbe essere proseguito lontano dalle telecamere. A confermare queste voci, ci sono stati alcuni indizi. Tra cui le dichiarazioni di Garibaldi sulla sua intenzione di cercare Beatrice una volta uscito dalla casa. Inoltre, la presenza di Garibaldi a Roma, poco dopo il suo ritorno in Calabria, documentata da una foto sui social durante un viaggio, di lavoro, ha alimentato le speculazioni. Molti sospettano che il bidello si sia recato nella capitale proprio per incontrare l'attrice. Ulteriori dettagli che hanno rafforzato queste ipotesi riguardano l'avvistamento di Beatrice Luzzi alla stazione Termini di Roma, senza bagagli. Un particolare che ha acceso ulteriori sospetti su un possibile incontro segreto tra i due. La storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, quindi, sembra proseguire al di là delle telecamere, mantenendo alto l'interesse dei fan e degli addetti ai lavori. Sebbene i diretti interessati non abbiano confermato nulla, continuano ad emergere indizi che suggeriscono una frequentazione riservata. Resta da vedere se nei prossimi giorni verranno alla luce ulteriori conferme su questa relazione che, per ora, rimane avvolta nel mistero. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.